Bravi, dai il tuo sport. Dai, 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 dai. E se prende una mia sport? Salute, vi! Mi chiamo a Gupito Portena. Ma che non fare아 che questi porti? La regola che si dista un po' più. È il Standing Portena che si dista. No, però... Si, mi piace, se non ci estive, la, e se non ci sei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.